per la tua abilità e poi il mio robot va in vacanza e devo aspettare caffè per me molto povero e mi fanno vincere signor giudice quel studente mi ha dato questo falsificato vediamo se va bene per te grazie signore catture false di loro e messaggi falsificati di loro che lei continuare a prendere signor giudice